Prova risate, prova applausi, prova piedi, perfetto grazie, bravi, dovreste farlo di messa, infatti siete a noleggio. State ascoltando Perfetti Sconosciuti, un podcast dove il piacere di leggere incontra il piacere di scrivere. Io sono Claudio Di Filippo e in ogni puntata sceglierò un testo scritto da voi e gli darò voce per farlo conoscere al nostro pubblico. Ma scopriamo subito il Perfetto Sconosciuto di oggi. Buon ascolto! Cari Perfetti Sconosciuti all'ascolto, bentornati al nostro podcast On Stage! In questo format, che ormai conoscete meglio del vostro pollice fiscale, non leggeremo un brano inviato dai nostri ascoltatori, come vi abbiamo abituati, ma ascolteremo una vera e propria esibizione dal vivo di stand-up comedy. Abbiamo il nostro piccolo palcoscenico in soggiorno, abbiamo il microfono in mezzo alla stanza, soprattutto, abbiamo il nostro pubblico a noleggio professionista! Grazie, grazie, basta così che poi mi tocca pagare gli straordinari. Il Perfetto Sconosciuto di oggi si chiama, rullo di piedi, Francesco Martalo! Con l'accento sulla O! Ok, dunque Francesco, Fiorentino, classe 89. Hai fatto la classe 89? Sì. Terza C... L1F, 89F. Ama la scrittura e soprattutto scrive dialoghi. Perché questa preferenza, questa discriminazione nei confronti dei monologhi? No, dialoghi perché almeno non ci sono grossi problematiche con la grammatica e non so, è la forma di scrittura che mi... Che ti stia più congeniale. Sì, che mi piace più. Quindi quando scrivi dialoghi tu usi i congiuntivi a cazzo così... Sì, sì, esatto, cerchi di lievito. Mi sembra giusto. È vero che per anni hai scritto con la mano sinistra? Sì, ho provato con la sinistra e non venivano bene. Quando hai realizzato che non eri Mancini? Esatto, poi ho iniziato alla destra e ho continuato con la destra e devo ammettere che la stessa cosa ho fatto con la masturbazione. Ecco, infatti. Ti viene molto meglio. Viene meglio. Cioè, sembra comunque un'altra... No, vabbè, non voglio dire. Questo ne parleremo in un altro podcast. Ne abbiamo parlato in un altro podcast. Esatto, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. È vero che per anni... No, scusa, non solo scrivi, ma tu reciti anche a teatro. Sì, ci provo. Che relazione c'è tra queste due passioni? Faccio abbastanza male entrambe le cose. Ecco. Scrivere è annerire una pagina bianca, fare teatro e illuminare una scatola mia. Sì, ora non si vedono le virgolette perché siamo in un podcast, non è mia, però è una classica frase figa da mettere come di Tascalia. Io l'ho letta con le virgolette comunque. Non l'avevi sentito. Odia, odia le file, la burocrazia e le zanzare. Due di queste cose le odio. Quando sei nervoso ti mordi l'orecchio. Anche adesso sei nervoso. Sì, sì. Vedo che ti mordi l'orecchio. I nostri ascoltatori non possono vederlo, ma vi assicuro così anche il pubblico a noleggio ha notato questa cosa, vero? Devo ammettere che è una finazione anche questa. No, di chi? Di Woody Allen. Woody Allen, vedi, ma da Woody Allen abbiamo preso un po' tutti, anche certe nevrosi. Leggo anche che sei un papà. Come si chiama il tuo bimbo? Aspetta che me lo sono tatuato. Samuele. Samuele. Dunque Samuele, quanti anni hai? Tre anni. Tre anni. Tre anni, tre anni, tre anni, tre anni proprio tre, 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 tre o tre e mezzo, due e mezzo, quattro? Tre e mezzo. E da quanti anni giochi a rugby? Tanti. Allora questo, posso dirlo questa cosa? Lavoro nella grande distribuzione, ho una persona l'altro giorno, era una coppia, lei fa lui. Ah, guarda, Samuele, si chiama come te. Signora, ma non è il mio nome, è il mio figlio. Ah, ah. Però è una buona idea, gente molto smemorata, insomma, anche la lista della spesa avevi tatuata. Sempre la stessa. No, la signora sulleva. Ah, ecco. Dunque, prima di cominciare, quindi questa puntata intanto la dedichiamo a Samuele, facciamo un bel applauso al nostro pubblico a noleggio. Tatuatevi tutti pubblico a noleggio stasera. Prima di cominciare vi ricordo che questo brano ha partecipato e si è classificato terzo alla prima edizione di Facci Ridere in Cinque Minuti, ho detto dieci numeri in tre parole, contest di scrittura comico organizzato dalla Mummu Academy di Firenze che ringraziamo per la preziosa collaborazione. ed ecco a voi, quindi, con la mia collaborazione, visto che si tratta di un dialogo, Francesco Martalò con il suo Folgoratissimo. Avanti il prossimo. Sì, buongiorno. Guardi, credo che ci sia un errore. È il suo turno adesso. Di quale errore parla? Lei non capisce. Cosa non capisco? Sta a lei. Diciamo che più che altro sono io che non capisco. Cosa? Perché sta a me adesso? Ma perché quello prima di lei ha finito e quello dopo sta aspettando. Sì, beh, grazie. Non è che non capisco come funzionano le code, è che proprio non capisco che ci faccio qua. Ah, mi scusi. Non avevo capito che la sua domanda era molto più esistenziale. Si figuri. Beh, mi puoi spiegare? Ah, certo. È stato un colpo di fulmine. Continuo a non capire. L'ultima cosa che ricordo è che stavo per buttare la spazzatura e adesso mi ritrovo in fila in questo strano posto. Le ripeto, è stato un colpo di fulmine. Non capisco se ammette di essere attratto da me o sta cercando di spiegare altro. No, no, no. Lei sta fraintendendo. Ricorda che stava per iniziare a piovere e ha sentito un tuono. Ecco, poco dopo è stato colpito da un fulmine. Sono morto. Folgorato. Morto, morto. Mortissimo. Oddio, sto per svenire. Ma va, cosa vuole svenire lei che è già morto? Ma che sfiga ci vuole per morire colpiti da un fulmine? Beh, sì, in effetti diciamo che non è stato proprio fortunato. Aveva una probabilità su 80.000 circa. E ha preso me? In pieno. Sembrava che l'avesse mirata. Oddio. E adesso? Adesso cerchiamo di muoverci perché come vede dietro di lei ci sono moltissime persone che aspettano. Ma non vedo la fine della coda. Ma quanti sono? Eh, abbastanza. Diciamo che il lavoro non manca. Tutti morti? Mortissimi. Folgorati? Ma se le ho appena detto che aveva una probabilità bassissima di finire così. Però, se cerca, sono sicuro che qualcun altro morto come lei con cui fare amicizia lo trova, eh. Sono uno zombie. Ha fame di cervelli? No, non direi. Ha fame in generale? No. Neanche un languorino? No. Esatto, perché lei è morto! Folgorato. Folgoratissimo! E adesso? E adesso le ripeto che dobbiamo un po' velocizzare la pratica. Tutta colpa della differenziata. Prego? A me di buttare la plastica e i metalli a parte non me ne hai mai fregato niente. E quindi? Però mi sentivo in colpa a buttare tutto insieme e allora da qualche mese ho iniziato a differenziare. Ed eccomi qua, colpito da un fulmine per portare fuori la plastica e i metalli che ritirano il giovedì. Eccola qua. Morto? Mortissimo. Folgoratissimo per colpa della differenziata. E adesso? Mi rimanda giù? Beh, lei dà per scontato che siamo in paradiso e io la dovrei rimandare giù? Se le dicessi che siamo giù e la dovrei rimandare su? Sono all'inferno. No, stavo scherzando. Ma le sembra il caso di scherzare su queste cose? Mi scusi, è che ho attaccato presto al lavoro. Cercavo solo di svagarmi un attimo. A che ora hai iniziato? Alle sette. Non è poi così presto? Di quattro secoli fa. Ah. Comunque non siamo né su né giù. Sono in purgatorio. Neanche. Ha presente il triage del pronto soccorso? Sì. Ecco, diciamo che dobbiamo capire dove mandarla. Ma non mi rimandate sulla terra? Le ripeto che è stato folgorato. Al massimo la potrei rimandare in un posacenere. Oddio. Mi scusi, mi scusi. Non mi sono ancora abituato all'idea di essere morto. Mortissimo. Sì, sì, folgoratissimo, ricordo. Bene, cominciamo. Cominciamo cosa? Le farò un po' di domande per capire meglio. Mi scusi, lei non sa tutto? Prego. Sa come sono morto? Davo per scontato che sapesse tutto di me. No, 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 solo quello, a dire il vero. Io so solo quello. E adesso le farò un po' di domande per capire dove mandarla. Ma che lavoro è il suo? Io vedo gli ultimi secondi della vita di una persona. In base a quello e alle risposte che mi dà il candidato, decido dove mandarlo. Ma ha studiato apposta per questo mestiere? Sì, ho una triennale. Prego. No, scusi, stavo scherzando. Lei è proprio un burlone, eh. Iniziamo. Ok. Balli di gruppo? Prego. Lei li balla ai balli di gruppo? Ma che c'entra questo? Lei risponda sì o no, altrimenti perdiamo solo tempo. Ma è positivo o negativo se li ballo? Sì o no? Vado forte con William C e la colita. Sì o no? Sì. Aia. Lo sapevo io. Metta no, metta no. Scherzavo. Ancora. Scusi, scusi, continuiamo. Caffè con zucchero o senza? Senza. Mare o montagna? Mare d'estate e montagna d'inverno. Eh grazie, sì, vabbè. Mare o montagna? Mare. E ci voleva tanto. Eh, lei la fa facile. Non so se riesco di andare all'inferno o chissà dove in base a cosa rispondo. Meriterebbe molto peggio, guardi. Solo per la colita. Sì, lo so, sta scherzando. Veramente roserissimo. Ma andiamo avanti. Pizza o sushi? Sushi. Ma veramente? Così, senza pensare. Pizza, pizza. No, no, ormai ho segnato, mi dispiace. Oddio. Abbiamo quasi finito. Un'ultima domanda. Sono pronto. Se lei potesse scegliere in che animale reincarnarsi, cosa sceglierebbe? Fra leone e zanzara? Senza alcun dubbio il leone. Molto bene, abbiamo finito. E adesso? Fra poco la sua anima tornerà sulla Terra e avrà la forma fisica di una zanzara. Ma ho scelto il leone. E che c'entra? C'erano anche tutte le altre domande, no? Colpa del sushi o della colita? Le svelo un segreto. In realtà quelle erano inutili. Se avessi detto zanzara si sarebbe reincarnato in un leone. Immagino che non ricorderò nulla di tutto questo. Al contrario. Ricorderà tutto e proverà a sussurrarlo alle orecchie di chi incontrerà per tutta la sua breve vita di zanzara. Oddio. Tu sei il diavolo. Ma va, è solo che mi annoio. Gliel'ho detto che sono sveglio dalle sette di quattro secoli fa. Adesso però la devo proprio salutare. Guardi che coda. Avanti il prossimo! Grandissimo, grandissimo Francesco. Francesco, grazie per questo dialogo bellissimo. Io mi sono divertito un sacco a farlo. Volevo ringraziare di averlo fatto nell'unico giorno dell'anno in cui non ho voce. Grazie. Perché tu sei fulgoratissimo. Ti prendiamo di mira noi e i fulmini. Allora, grazie ancora al nostro pubblico a noleggio. Fantastico. Francesco, allora, vuoi dire qualcosa? Un saluto al tuo bimbo, Samuele? No, ti ringrazio per l'occasione e grazie al pubblico. E grazie a Perfetti Sconosciuti Podcast per questa incredibile opportunità che mi ha dato e che seguo da anni e anni. Anni e anni. Da quanti anni c'è? Questa era poco credibile, però. L'anno scorso. Purtroppo perché era dall'anno scorso. Allora, sono quasi due anni che lo seguo. Bravo. Bravo. No, neanche, perché non siamo neanche arrivati al primo anniversario. Lo seguo da quando è arrivato. Prego, stia zitto! Avanti il prossimo! Grazie! E questo era il Perfetto Sconosciuto di oggi. Per saperne di più, trovate un profilo dell'autore e le note sul brano nella descrizione dell'episodio. Si ringraziano per l'amichevole partecipazione Cristian, Elisa, Francesco, Monia, Mattia, Silvia G. e Silvia M. Potete sostenerci condividendo il podcast sui vostri profili social, lasciando un commento sulla nostra pagina Facebook e passando parola. Per partecipare, mandate i vostri testi originali, pagine di diario, poesie o racconti brevi all'indirizzo perfettisconosciutilpodcast.gmail.com Specificate un titolo, il vostro nome o uno pseudonimo e, se volete, anche una dedica. I prossimi Perfetti Sconosciuti potreste essere voi. Al prossimo episodio! Come si chiamano i giocatori di rugby? C'è l'attaccante? L'attaccante. Sì? Poi c'è il difensore? Sì. Poi basta. Basta. Attaccante e difensore? Sì. E quanti bambini ci sono nella squadra? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici.